Il mondo dell'impresa commenta la manovra finanziaria 2024 varata dal governo Meloni. Una manovra che, come da prassi, dicono, a luci e ombre. Sicuramente ho scritto il merito della ragionevolezza nelle misure intraprese. Hanno di fatto implementato le richieste delle imprese che abbiamo sempre fatto in merito di taglio del cuneo fiscale. Le ombre sono sicuramente costituite dal fatto che sono interventi di natura congiunturale. Quindi andranno rifinanziati di anno in anno e questa incertezza si riflette poi nella fiducia sia dei consumatori ma soprattutto degli investitori sul debito. Sappiamo che l'Italia è un paese molto indebitato e senza misure strutturali la fiducia rischia di venire meno e ampliare gli spread. Alla luce di più di 1.100 miliardi di spesa pubblica, Confindustria ha più volte sottolineato che per fare interventi di natura strutturale e non solo congiunturale occorre riconfigurare una parte della spesa pubblica. Diciamo che forse è mancato un po' di coraggio però per altro segno mi viene da dire che il momento non è semplice e probabilmente le congiunture internazionali non lascia spazio a momenti di decisioni e riflessione che sarebbero però molto opportuni. Il personale è negli ultimi tempi tra i temi caldi che caratterizza il mondo del lavoro. Tra i punti clou della manovra ci sono anche incentivi alle assunzioni. Il vero tema non sono tanto gli incentivi di assumere perché le imprese assumono laddove ne hanno necessità e trovano sul mercato quello di cui hanno bisogno. Il problema semmai è incentivare gli investimenti e quindi far ripartire la crescita perché in questo momento con il costo del denaro alle stelle gli investimenti negli ultimi cinque trimestri si sono praticamente bloccati. Senza investimento non c'è crescita e senza crescita non c'è occupazione. Quindi il problema vero è come far ripartire la crescita.